Benvenuti a questo nuovo Apegeo. Questo Apegeo è tenuto da un altro giovane del nostro dipartimento, dal professore Alessandro Comunian. Alessandro si laurea in Fisica presso l'Università degli Studi di Milano. Dopo aver svolto un servizio, il servizio civile, si occupa di protezione ambientale lavorando presso l'ARPA, l'agenzia regionale. Dopo questa esperienza però ritorna nell'ambito della ricerca e si muove verso la Svizzera, a Neuchatel, dove consegue il titolo di dottore di ricerca. Successivamente si sposta in Australia, dove collabora con gli australiani per tre anni e nel 2020 approda presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Milano, dove attualmente è professore associato. Alessandro partecipa alle attività diciamo del laboratorio di idrogeofisica e principalmente si occupa infatti di idrogeologia. Il suo pallino è quello di scoprire, di trovare, ripostruire le terogeneità geologiche nel sottosuolo utilizzando anche modelli statistici e quindi anche l'esplorazione geofisica a piccola profondità. Quindi esplorare il sottosuolo senza metterlo sottosopra appunto è il suo obiettivo principale. Quindi do il benvenuto ad Alessandro e lo invito a condividere la sua presentazione, vi auguro una buona a Pegeo e come consuetudine ci ritroviamo dopo per le vostre domande. Grazie, ciao Alessandro. Grazie Patrizia, grazie. Ok, penso vedete tutti delle slide, diciamo una slide con il titolo della presentazione, quindi ringrazio Patrizia. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Oggi quindi come ha già accennato Patrizia, parleremo di alcune tecniche che permettono di esplorare il sottosuolo senza metterlo sottosopra ed in particolare di diciamo tecniche legate a quella che è l'esplorazione geofisica che è una serie di tecniche, di strumenti che ci aiutano appunto ad esplorare il sottosuolo studiando per esempio la sua risposta a sollecitazioni sia che creiamo artificialmente che segnali di fondo naturali che possono essere di vario tipo, per esempio oggi vedremo qualcosa legato ai campi elettromagnetici e qualcosa legato alle sollecitazioni tipo delle onde sismiche, in particolare i microtremori e dunque l'invantaggio dell'esplorazione geofisica è che quasi sempre permette di esplorare il sottosuolo in maniera senza metterlo sottosopra, quindi in maniera non invasiva. Tra le varie tecniche che quindi vedremo, oggi cercheremo di visualizzare e fare delle piccole dimostrazioni pratiche anche dell'utilizzo degli strumenti proprio vedendoli funzionare quando possibile in modo che possiate se non toccare con mano avere un po' più di feeling di quello che sta dietro all'esplorazione geofisica, in particolare quella a piccola profondità di cui ci occupiamo nel laboratorio di idrogeofisica. Quindi vedremo diverse tecniche, i loro principi di funzionamento, una dimostrazione di come possono funzionare e vedremo dei brevi casi studio che illustrano un po' le potenzialità di queste tecniche. Queste tecniche saranno, il primo strumento che vedremo sarà il georadar o ground penetrating radar GPR, vedremo anche un metodo basato sui campi elettromagnetici sempre nel dominio della frequenza che chiameremo anche Frequency Domain Electromagnetic o FDEM e un ultimo metodo che vedremo è il metodo HV, Horizonsal to Vertical Spectral Ratio HVSR che è basato, si basa su microtremori, diciamo una tecnica di prospezione sismica passiva. Vedremo meglio i dettagli di ogni tecnica, cominciamo adesso con il georadar. Il georadar vedete qui nella foto uno dei nostri strumenti che utilizziamo per fare della prospezione georadar, il suo principio di funzionamento si basa sulla, in pratica si analizza il tempo di andata e di ritorno di dei pacchetti d'onda che vengono inviati da questa antenna, vedete qui in basso, questo triciclo trascina un'antenna che trasmette e riceve delle onde elettromagnetiche che vanno verso il suolo in profondità, riemergono in funzione del tempo che ci impiegano a riemergere, si possono trarre delle considerazioni su quello che potrebbe esserci sotto senza, diciamo, in maniera non invasiva. È uno strumento che utilizza frequenze di lavoro che vanno, in generale, possono andare dai 100 MHz fino a qualche GHz. Come riferimento tenete presente che per quanto riguarda la telefonia cellulare, quindi il 4G, le frequenze in gioco vanno da 800 MHz a 2 GHz, mentre per il 5G si spingerà fino a frequenze molto più alte. Il nostro strumento in particolare ha frequenze di lavoro che vanno, lavora su due frequenze, una 300 MHz, l'altra 800 MHz, quindi riesce a inviare nel sottosuolo contemporaneamente dei segnali a diverse frequenze. Questo, diciamo, vedremo anche sullo schermo dello strumento, avrà diverse implicazioni. È uno strumento che può arrivare, diciamo, può arrivare fino a pochi centimetri per applicazioni con frequenze molto alte, per applicazioni tipo ingegnerisco, tipo consolidamento di coperture di edifici, eccetera, anche a diversi metri di profondità. Lo strumento che avete visto, che avete appena visto prima, che trasporta un'antenna che produce un segnale, un'onda elettromagnetica, delle onde elettromagnetiche che vanno in profondità e in particolare se incontrano uno strato, una stratificazione di materiale con proprietà elettriche diverse da quelle in cui stanno viaggiando, vengono riflesse verso l'alto e quello che si misura in superficie è il tempo, si dice two-way travel time, il tempo che l'onda ci impiega, diciamo, impiega una volta partita dall'antenna, scendere, venire a interagire con lo sottosuolo e eventualmente venire anche riflessa, oltre ai vari processi che avvengono, l'attenuazione, diffrazione, eccetera. Adesso cerchiamo di vedere quindi dal vivo un po' come funziona, quindi questo è in soldoni il principio di funzionamento. Cerco di farvi vedere come funziona lo strumento, lo vado a prendere subito, arrivo un po' più in grande lo strumento di misura, quindi l'antenna è quella qui in basso e c'è un odometro che misura, diciamo, come ci si muove e adesso cerco di farvi vedere lo schermo dello strumento. Ok, posso usare... qui vedete già, cioè questo è il tipo di segnale che viene inviato nel sottosuolo a un singolo, diciamo, una singola location nello spazio e se io mi muovo, per esempio provo a far partire un sondaggio, dovrebbe apparire sullo schermo, facendo uno zoom, vedete che appare un profilo, appaiono tutte queste sorte di spette che non sono nient'altro che la somma di tante, diciamo, di tutte queste ondine che vedete qui, diciamo, viste singolarmente, la loro somma la vedete qua sulla destra dello schermo e man mano che avanzo, adesso vedete il cursore si sposta in funzione di dove sono, si vede il segnale che viene raccolti in superficie. Qui posso visualizzare, dicevamo, ci sono due frequenze, questa prima frequenza, vedete che a intervalli regolari mi fa vedere che c'è qualcosa nel, diciamo, nel pavimento dell'edificio, probabilmente vista lo spessore potrà essere qualche, diciamo, delle parti dell'armatura, comunque parte del pavimento della soletta, che vediamo con l'antenna ad 800 MHz. Con l'antenna, facendo così vediamo l'antenna a frequenze più basse, che in realtà può andare più in profondità ma risolve meno dettagli, quindi non si vedono i ferri che invece vedevamo, qui è una visualizzazione dove vedo tutte e due i segnali, qui vedo solo la parte superiore. Quindi muovendomi nello spazio riesco a coprire, diciamo, a fare profili più o meno lunghi, posso ripeterne tanti uno parallelo all'altro e avere una visualizzazione tridimensionale del sottosuolo. Ora riprendo la mia postazione, ho visto cos'è un ground penetrating radar e in generale il suo funzionamento è quello, diciamo, in soldoni, come dicevo, manda delle onde elettromagnetiche in profondità e che vengono, se ci sono dei contrasti di proprietà elettriche, rimbalzano in superficie e ci danno informazioni di com'è il sottosuolo. I campi di applicazioni di questa tecnica sono molto ampie, si va da applicazioni legate alla geologia, applicazioni ambientali, quindi analisi per esempio di scarico, siti contaminati, applicazioni glaciologiche, ovvero il ghiaccio è un buon isolante, quindi il segnale del GPR riesce ad arrivare molto in profondità per indagini glaciologiche, per esempio è stato utilizzato per localizzare dei laghi sotterranei, sotto il ghiaccio, spesso è usato anche in ingegneria, nelle costruzioni per vedere, per esempio, delle fratture o in certe strutture di calcestruzzo, vedere il grado di compattezza di alcune strutture di calcestruzzo e un altro campo di applicazione è la georacheologia. Non ultima le scienze forensi, per le quali anche la televisione ha coperto alcuni, il soggetto, facendo vedere però immagini un po' forvianti e troppo dettagliate, diciamo, per ricercare la vittima di qualche delitto, purtroppo il GPR è stato usato storicamente, diciamo, viene tuttora usato, ma non dà il tipo di dettaglio che vedete in questa immagine di un episodio di CSI New York, quindi è un po' una sorta di mito da sfatare. Al contrario, dà informazioni molto utili, per esempio in altri contesti, uno di questi contesti è per esempio la localizzazione, si può utilizzare per esempio in dei siti industriali in uso o in disuso per localizzare la presenza di strutture sotterranee come utubazioni oppure in questo caso questa immagine, questi iperboli di distrazione mostrano chiaramente, vedete, quindi lungo questa coordinata c'è la distanza, quindi questi sono metri, 0, 2,5 metri, 5 metri, quindi la distanza dalla quale ho iniziato a misurare il profilo, questa asse indica il tempo che il segnale ha impiegato dalla sua partenza a scendere, venire riflesso e interagire col mezzo dei tonali in superficie e si creano delle figure che opportunamente interpretate, in questo caso rappresentano la presenza di alcune cisterne sotterranee per le quali andavano fatti degli scavi per delle opportune trattamenti che necessitavano di scavare nel punto preciso, non si sconosceva la localizzazione e quindi si è utilizzato il GPR per localizzare queste cisterne. Un'altra curiosità tra parentesi, il GPR è una tecnica talmente flessibile e versatile che è stata anche, cioè attualmente il mese scorso è atterrato su Marte il rover Perseverance e ha portato con sé quello che è stato denominato il RIMFAX Radar Imager for Mars Subsurface Experiment, di fatto un georadar molto potente per indagare se sotto il suolo del pianeta Marte ci possono essere per esempio risorse tipo acqua, ghiaccio, cose del genere, ha frequenze di lavoro in particolare da 150 a 1200 MHz, ha una risoluzione verticale di qualche decina di centimetri e potrà arrivare in funzione dei materiali, se il segnale non sarà troppo attenuato, potrà arrivare a profondità di anche una decina di metri. Questa è una curiosità sul GPR. Dopo il GPR un'altra tecnica che si basa sempre su campi elettromagnetici, questa volta cosiddetta nel dominio della frequenza, è la tecnica FDEM, diciamo, utilizza campi elettromagnetici nel dominio della frequenza. E' cugina prima della tecnica sempre basata su campi elettromagnetici studiati nel dominio del tempo, che qualche peggio fa è stata descritta in gran dettaglio dal professor Fiandaca. Il suo principio di funzionamento, di fatto si creano delle onde elettromagnetiche che interagiscono, diciamo, sollecitano, interagiscono col sottosuolo e ritornano in superficie alterate e permettono di trarre delle conclusioni sulle proprietà del suolo a determinate profondità. In questo caso le frequenze di lavoro sono più basse, vanno dai 90 Hz ai 100 Hz e qui vedete uno strumento che vedremo, diciamo, fra poco dove, diciamo, le due antenne sono localizzate davanti e dietro una sorta di asse, diciamo, in vetroresina, che ospita direttamente le due antenne a una distanza fissa. In realtà esistono strumenti per le quali l'antenna, diciamo, le due antenne, quella che spedisce il segnale nel sottosuolo e quella che riceve il segnale, possono anche essere mobili e per alcuni strumenti la loro distanza arriva fino a 100 metri. Vedremo nel dettaglio, adesso subito il funzionamento, vi faccio vedere prima lo strumento live, lo vedete già in questa foto, ma lo stesso strumento, giusto per avere un'idea di che faccia, dal vivo, è uno strumento, diciamo, è fatto così. C'è un'unità che trasmette, che crea il segnale che viene spedito e riceve, diciamo, interpreta il segnale che viene ricevuto dalla parte ricevente dello strumento e diciamo in linea di principio quello che succede quando ci si muove con questo strumento che abbiamo appena visto in foto e ci si muove sempre sul, diciamo, generalmente può essere anche dotato di un'antenna GPS e quindi si possono fare, diciamo, profili a diverse forme, però generalmente ci si muove in maniera, lungo dei profili rettilinei con, diciamo, questo strumento che è fatto di due antenne, una trasmittente e l'altra ricevente, useremo lettere TX e RX per dire l'antenna trasmittente e ricevente. L'antenna trasmittente crea un campo primario, supponiamo che, diciamo, sottoterra ci sia un corpo con una determinata proprietà elettriche particolari, il campo che viene generato dall'antenna trasmittente crea delle correnti parassite all'interno di questo corpo che a loro volta generano quello che è detto un campo secondario che viene misurato in superficie dall'antenna trasmittente insieme al campo primario che comunque, diciamo, è prodotto un po' in tutte le direzioni. Quindi interpretando il segnale che viene prodotto, diciamo, che viene misurato dall'antenna ricevente si possono fare delle considerazioni, si può indagare quello che c'è nel sottosuolo senza per forza scavare. Le applicazioni, vedremo subito qualche esempio, comunque le applicazioni di questa tecnica vanno dalla geoarcheologia e vedremo dopo un esempio. le esplorazioni minerarie sono molto utilizzate perché proprio, diciamo, i minerali hanno proprietà elettriche particolari rispetto al suolo, diciamo, standard. Applicazioni in idrogeologia, ovvero quando il suolo è più o meno saturo d'acqua e le sue proprietà elettriche cambiano. Ricerca di cavità che chiaramente hanno proprietà elettriche molto diverse dal suolo normale, su siti contaminati e in questo caso abbiamo partecipato anche qualche tempo fa ad applicazioni legate all'agricoltura di precisione. Dove con questo strumento abbiamo mappato in collaborazione con la dottoressa Ortuani del Dipartimento di DISA, il vecchio Dipartimento di Idraulica Agraria, abbiamo mappato il suolo nei primi, in questo caso qualche decina di centimetri, il suolo di dei vigneti per cercare di mappare la sua conducibilità elettrica, legarla alle proprietà idrauliche del suolo per cercare di ottimizzare le tecniche di irrigazione dei vigneti e vedere, fornire un supporto senza dover per forza campionare, prendere dei campioni di suolo con una distribuzione spaziale molto fitta, al posto di fare questo abbiamo fatto dei sondaggi di questo tipo non invasivi. Un esempio molto bello applicato alla georacheologia è quello del sito di Santa Rosa di Poviglio dove dalle osservazioni satellitari si intravedeva, diciamo la vegetazione aveva dei, è stato osservato diciamo in un sito di interesse georacheologico una certa disuniformità della vegetazione via satellite e si è deciso di fare dei sondaggi geolettrici che hanno, diciamo, dato luce a delle strutture molto particolari che vedete qui rappresentate per esempio da dei contrasti di resistività elettrica che vanno da poche decine di ohm per metro comunque potete pensare solamente a diversi colori e qui c'è immaginare la presenza di qualche struttura con una qualche geometria particolare nello stesso sito chiaramente sono state fatte anche cioè scavate delle trincee per effettivamente verificare cosa ci fosse nel sottosuolo e diciamo visto più in grande è risultato essere, diciamo la tecnica ha aiutato è stata di grande supporto per delineare la presenza di un villaggio dell'età del bronzo qui vedete un'interpretazione dove si ubica una parte cosiddetto villaggio grande in questa parte un altro villaggio, un villaggio più piccolo verso nord i resti di una villa romana i resti di una strada romana un fossato che circondava questo villaggio dell'età del bronzo e altre interpretazioni diciamo mostrano la presenza per esempio di strutture di collegamento fra il villaggio piccolo e il villaggio grande anche strutture di origine diciamo geomorfologico e strutture che erano i canali dell'epoca questo studio rappresenta diciamo da un lato diciamo con strumenti trainati da diciamo veicoli si coprono distanze molto grandi però questo per una serie di ragioni diciamo logistiche questi sondaggi sono stati condotti principalmente a piedi e sono stati percorsi in totale 90 chilometri quindi 90.000 metri di linea di misura e coperti 110 ettari quindi diciamo un piccolo record per quanto riguarda l'applicazione di questa tecnica con questa logistica l'interpretazione di quello che è stata la geofisica con chiaramente il supporto di altri colleghi anche in dipartimento cioè soprattutto con il supporto di altri colleghi in dipartimento una delle possibili ricostruzioni è questa con il diciamo il vecchio corso del Po che vedete qui in alto e dei canali a protezione di questi villaggi tipici diciamo dell'età del bronzo dopo aver visto quindi questo abbiamo visto il georadar abbiamo visto l'elettromagnetometro ovvero strumenti che fanno misure elettromagnetiche nel dominio della frequenza vediamo un'altra tecnica che questa volta non si basa su onde elettromagnetiche ma diciamo una tecnica che si basa su microtremori ovvero diciamo onde sismiche create dal sia dalle attività antropiche che dalle attività naturali e che creano una sorta di rumore di fondo una sorta di vibrazione che viene diciamo che possiamo registrare per un determinato intervallo di tempo e studiare per cercare di trarre delle conclusioni sempre su quello che c'è nel sottosuolo senza scoperchiarlo è una tecnica che permette di diciamo raggiungere profondità anche abbastanza abbastanza elevate e generalmente di supporto da applicazioni di geologia e di geotecnica è molto utile anche per classificare fare la classificazione sismica dei suoli vediamo subito allora cerco questa volta di togliere la condivisione e farvi vedere direttamente lo strumento che di fatto è un quello che è un geofono tridimensionale pardon quindi contiene tre geofoni lungo tre direzioni perpendicolari fra di loro e misura le vibrazioni lungo queste direzioni ora mi collego al computer che lo pilota e vi faccio vedere che tipo di segnale possiamo ricavare un po' un po' un po' Grazie a tutti. Ok, ora dovreste vedere il computer che pilota lo strumento e facciamo partire l'acquisizione. In realtà sono misure che si possono acquisire per tanto tempo e avere dei segnali abbastanza lunghi per poter fare uno studio dello spettro. In pratica, ogni colore rappresenta uno dei tre sensori. In questo caso quello rosso misura le vibrazioni su e giù, quello verde nord sud e quello blu est-ovest. E vedete che è molto sensibile, adesso sto toccando semplicemente la mia scrivania e anche solo una piccola... Sì, se presto i piedi peggio, sicuramente è uno strumento molto sensibile. Quindi la tecnica consiste nel... Ora interrompo l'acquisizione e vi spiego un attimo come funziona. Praticamente la tecnica funziona in questa maniera. Ok, penso che vi date tutto il mio schermo. Quindi si registra questo segnale, diciamo, la variazione nel tempo di tutte queste oscillazioni nord sud, est-ovest e alto basso. E si fa quella che è un'analisi, diciamo, analisi di spettro, spettro, ovvero, diciamo, per rendere l'idea con un'analogia legata ai vecchi equalizzatori che c'erano sugli stereo o semplicemente... Ok, chiaramente tutte quelle... Facciamo l'analisi di spettro, spesso per chi non è del mestiere, può risultare un termine oscuro. In realtà, alla fine, quello che vediamo su alcune applicazioni audio o che avevamo su, diciamo, i vecchi stereo a alta fedeltà, erano delle sorte di histogrammi che facevano vedere quale frequenza avevano un'ampiezza maggiore. E qui, diciamo, si fa la stessa cosa, si fa l'ipotesi che il suolo, supponiamo sempre un suolo, diciamo, stratificato con due strati dove le velocità delle onde sismiche, diciamo, in particolare delle onde s, sono diverse. E, diciamo, uno strato, ci supponiamo per semplicità, degli strati orizzontali. Noi, quindi, misuriamo in superficie queste vibrazioni, con questo strumento, e in funzione della frequenza che emerge, di fatto, riusciamo a capire, la funzione che emerge è strettamente legata, diciamo, la frequenza che emerge, sarà una frequenza particolare, un po' come se dovessimo ascoltare, per esempio, il suono di un contrabbasso, di un violino, di una viola, in funzione della frequenza, possiamo capire quanto grande è la cassa armonica dello strumento. Quindi, questa tecnica si basa su alcuni principi che dicono che la frequenza registrata in questi spettri è strettamente legata alla profondità dello strato, questo H, e anche alla velocità delle onde s nel primo strato. Quindi, da qui, per esempio, un esempio di applicazione di spettro che abbiamo recuperato, già ho misurato nei pressi di Piuro, in Val Chiavenna. Sempre in collaborazione, diciamo, con altri colleghi del Dipartimento e anche del Politecnico di Milano, abbiamo, diciamo, ricavato questa analisi di spettro che ci dice che c'è una frequenza, in questo caso, attorno ai 2 Hz, che, diciamo, con opportune assunzioni, può essere legata alla profondità di un determinato strato, diciamo, substrato di roccia, generalmente, cioè, in gergo viene chiamato in molti casi quando, diciamo, ci sono dei sedimenti sopra dello strato di roccia più compatta, è chiamato bedrock, e questa, diciamo, questa tecnica permette di avere, diciamo, un'idea di massima di dove potrebbe essere questo bedrock, se ripetuta in diversi punti, con alcune limitazioni, questa tecnica può dare un'idea della profondità di un determinato substrato. Nel caso particolare di Piuro, c'è l'interesse da capire il substrato di una frana storica, cioè della frana storica di Piuro, che è molto studiata all'interno di un progetto dove lavorano altri colleghi del Dipartimento, diciamo, per la valorizzazione del patrimonio, diciamo, del paesaggio e anche per indagini legate alla stabilità dei versanti, e quindi frane storiche, eccetera. Ok, quindi con questa tecnica, sì, qui in realtà vi facevo vedere la distribuzione spaziale di tutte le misure, qui c'è il fiume, per chi conosce la Val Chiavenna e la Val Bregaglia, questo è il fiume Mera. E diciamo, con questo concludo ringraziando soprattutto i colleghi e persone con cui collaboro da anni, i nostri tecnici che ci supportano sempre, spesso ci supportano durante le misure e in particolare andranno in pensione fra poco, quindi ringraziamento particolare. Tutti gli studenti che hanno contribuito a prendere queste misure e anche, diciamo, il progetto di eccellenza del quale, diciamo, il nostro Dipartimento è riuscito a essere nominato Dipartimento di Eccellenza e quindi parte dei fondi del progetto sono serviti per comprare alcuni degli strumenti che avete visto. Quindi vi ringrazio e chiuderei qui la presentazione. Sono a disposizione per le vostre domande. Bene, grazie. Grazie mille Alessandro, anche ci ha fatto vedere dal vivo gli strumenti, diciamo, che usi quotidianamente. E poi mi sono piaciuti questi legami con, comunque, anche altri tipi di discipline, no? Quindi, diciamo che sono degli strumenti veramente molto interessanti. C'è un campo vasto, molto vasto. È bello. Poi, vabbè, appunto, la Terra Mare, no? Di Poviglio, tra l'altro, appunto, il Dipartimento è molto impegnato anche con la valorizzazione, con i cremaschi nel passato, ma anche tanti altri... Geoarcheologia, quindi, insomma, sono state delle scoperte anche che hanno avuto un impatto sulla società anche, no? Quindi non solo meramente scientifico, ma anche, diciamo, a livello culturale come impatto sulla società molto importante. Quindi, niente, ringrazio Alessandro, veramente molto interessante, diciamo, le applicazioni numerose di queste tecniche. E, niente, vi saluto, vi auguro buona Pasqua. Grazie Alessandro, cin cin, quel caffè. E, niente, vi ricordo il prossimo appuntamento. Questa volta passiamo dal sottosuolo, andremo sott'acqua, faremo un tuffo negli oceani a incontrare il fitoplancton. E, quindi, ci vediamo dopo Pasqua. Buon riposo a tutti. Arrivederci.